I'm gay Guaio Che c'è qua Uuuuh Daaa Cavolo Questo ormai facci così Levare la palla Tu che è? Buon appetito Buon appetito Buon appetito Riccardo, come si chiama? Cristiano e Francesco. Ma a tempo? No, se è a tempo ormai... E' un pensiero tanto c'è lato. Salutami! C'era tua madre, lei deve stare solo a casa, non ci manco stare. No, che è lato. Non lo so, non lo so. Grazie. si riescono sempre a intercettarci i passaggi fai il bè fai il bè ma che cazzo dai ragazzi è nostra dai buona grazie 35 bravo Cristiano bravo Cristiano bravo Cristiano bravo Cristiano andrata? l'abbiamo fatto? l'abbiamo fatto? oh che cavolo bravo Ormai calmi ragazzi Si mette l'anoretti Si mette l'anoretti Si mette l'anoretti Padino che stai combinando? Porco cane Chi ha segnato? Chi ha segnato papà? Che gollaccio Quarto gol di seguito Oddio ragazzi Mi raccomando eh Sì Oddio ragazzi Oddio ragazzi Vai Eni Cavolo Buona Bravo Lascia lo stai Eni Dai Stupido Dai 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 Che buona Vai ricca Oh che succede? Dai ricca Dai Guarda Federini Guarda Federini Devi tirare Perfetto Buona Albe Va bene ragazzi Dai Facci qualcosa di questa paga Guarda Finita E va bene Bravi Questa è una bella partita Bravi Grazie Grazie Grazie